Un take away della cocaina che veniva distribuita dal balcone attraverso un secchio appeso a una corda dove i clienti, dopo aver preso la dose, lasciavano il denaro. È la tecnica utilizzata da una rete di spaccio a conduzione familiare ad Archicep, un quartiere nella periferia nord di Reggio Calabria. Quattro persone, nonni, figlio e nipote, sono finiti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Tutti erano impegnati a gestire un punto di vendita di cocaina che, con metodo e rapidità, era in grado di soddisfare una decina di clienti al giorno. Le indagini, avviate nel giugno 2022, sono partite dalle segnalazioni di residenti stanchi dell'intensa attività di spaccio che rendeva il quartiere insicuro. Per tre mesi i carabinieri della stazione di Archie hanno effettuato servizi di appostamento e controlli mirati, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo l'insolito modus operandi adottato dagli indagati. Pagata la dose, lo scambio era concluso consentendo transazioni rapide e minimizzando il rischio di essere sorpresi in flagranza. Durante le perquisizioni sono stati sequestrate consistente somme di denaro contante, forse provento dell'attività di spaccio, ma anche materiale per il confezionamento della cocaina e dispositivi utilizzati per facilitare la consegna della droga. Le indagini hanno permesso di smantellare una piazza di spaccio, gestita da un team familiare che coinvolgeva nonni, figli e nipoti. Le cessioni di cocaina avvenivano in pieno giorno tramite un secchio calato dai balconi.